benvenuti a questa meditazione guidata dedicata all'esplorazione della mercabà dell'arcangelo metatron uno strumento potente per la trasformazione spirituale e la connessione con il divino la mercabà spesso descritta come un veicolo di luce a forma di stella rappresenta l'unione perfetta degli opposti un ponte tra il terreno e il celestiale mentre ci addentriamo in questa pratica lasciate che la vostra mente si liberi dalle preoccupazioni quotidiane e che il vostro spirito si elevi verso dimensioni superiori di pace e comprensione trova un momento in cui sai che non verrai disturbato trova una posizione comoda seduta su una sedia o a gambe incrociate e chiudi dolcemente gli occhi prenditi un momento per cogliere un respiro profondo e rilascialo lentamente con ogni espirazione lascia andare tensioni e preoccupazioni sentiti ogni volta più leggero più disteso concentrati sul ritmo del tuo respiro lasciando che diventi sempre più calmo sempre più profondo ora immagina un punto luminoso al centro del tuo cuore irradia una luce dorata che si espande a ogni respiro questa luce inizia a formare una figura geometrica tridimensionale attorno a te un doppio tetraedro il veicolo sacro noto come mercabà ogni suo spigolo è perfettamente lucido riflettente come uno specchio la sua struttura è complessa ma armoniosa e ruota lentamente attorno a te man mano che la mercabà si muove senti la presenza rassicurante e potente dell'arcangelo metatron la sua essenza scende come una luce bianca pura dall'alto entrando nella mercabà ascolta il suono silenzioso ma profondo della sua energia che si intreccia con la tua permetti a questa connessione di rivelarti la saggezza la protezione e l'amore incondizionato di metatron resta in questo spazio sacro permettendo alla tua anima di ricevere le benedizioni e le intuizioni che la mercabà e metatron hanno da offrirti se ci sono domande nel tuo cuore o desideri che cerchi di manifestare chiedilo ora lascia che le risposte ti vengano date in questo spazio di completa pace e comprensione grazie quando sei pronto senti la mercabà che rallenta la sua rotazione stabilizzandosi attorno a te la la luce di metatron si fa più soffusa ma la sua presenza rimane un sigillo di luce nel tuo cuore porta con te la calma e la chiarezza che hai trovato qui mentre la mercabà si dissolve delicatamente nel tuo respiro con qualche respirazione profonda inizia a riportare la tua attenzione al mondo esterno muovi dolcemente le dita delle mani e dei piedi e quando ti senti pronto apri gli occhi grazie per aver condiviso questo viaggio della mercabà con me